Benvenuti alla quinta puntata della rubrica dedicata alla centrale rischi. Oggi parleremo di come leggere la visura. Ovviamente non entreremo nel dettaglio delle singole linee, questo sarà affrontato durante lo svolgimento della rubrica, quindi ogni volta che affronteremo i vari micro argomenti vedremo anche come individuarli. In questa sede cosa faremo? Faremo, come dire, daremo una lettura complessiva della visura, quindi per darvi, come dire, consigli utili di come navigare all'interno del dato. Prima di andare a vedere un esempio concreto vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a mettere la campanellina e se vi piacerà questo video, questo contributo, a mettere anche un bel mi piace. Andiamo subito a vedere la visura, io la apro, eccola qui. Allora, cosa si può vedere subito in questa prima pagina? Questo è quello che voi otterreste nel caso appunto richiedeste una visura centrale rischi Banca d'Italia. Beh, la prima cosa importante, al di là dei dati diciamo così anagrafici, questa è un'azienda che ho ovviamente oscurato, quello che mi interessa farvi notare è il riquadro in rosso, cioè tutto l'orizzonte temporale che è stato richiesto. In questo caso da aprile del 2018 fino a marzo del 2021 questo è l'orizzonte temporale che è stato richiesto dal titolare del dato. Ovviamente se all'interno della visura, faccio un esempio, mancassero tutti i dati relativi agli ultimi mesi del 2018, cosa vorrebbe dire? Che Banca d'Italia si è dimenticata di inserire le informazioni relative a questi mesi? No, significa unicamente che durante i mesi del 2018 l'azienda, in questo caso, non era stata oggetto di segnalazioni, quindi non c'era nessuna banca che la segnalava. Evidentemente le segnalazioni partono da gennaio del 2019 fino a marzo del 2021, quindi se non trovate all'interno della visura il dettaglio di uno o più mesi che voi avete richiesto è solo perché in quel periodo voi non eravate segnalati. Passando all'immagine 2 ecco che la visura Banca d'Italia ci fa scoprire un dato aggiuntivo, cioè la presenza in questo caso di una cointestazione fra il soggetto richiedente ed un altro soggetto, in questo caso si tratta di un'altra SRL. Il tema quindi qual è? È che quando si chiede la propria visura centrale rischi è possibile che all'interno venga riportato anche l'esposizione di rischio delle cointestazioni a cui il soggetto richiedente partecipa, ok? Faccio un esempio il classico mutuo cointestato fra due coniugi, se uno dei due coniugi richiede la propria visura non solo troverà i propri finanziamenti personali, ma il mutuo in questione lo troverà sotto la cointestazione con il proprio coniugi per l'appunto. Ora il tema quindi qual è? È che all'interno della visura, ok? Questo è l'ordine preciso che Banca d'Italia segue, troverete tutto l'orizzonte temporale relativo al primo intestatario, al soggetto richiedente e poi in ordine, nel caso ci siano più cointestazioni, tutti i mesi della cointestazione 1, tutti i mesi della cointestazione 2 e via discorrendo, ok? Quindi se non trovate evidentemente una cointestazione ecco che tutte le posizioni che vengono raccontate all'interno della visura fanno capo naturalmente a voi. Una cosa interessante sempre in questa seconda slide che vi voglio evidenziare, beh che cos'è? Beh è di fatto che Banca d'Italia in calcio ci riporta anche non solo il numero di pagine, in questo caso stiamo parlando di 776 pagine di visura che coprono un orizzonte temporale di 3 anni, 36 mesi, ok? Ma anche la data, l'ora, i minuti e i secondi in cui la visura è stata generata da Banca d'Italia, uno si domanderà ma non bastava al giorno? No che non bastava al giorno, perché se seguirete le nostre rubriche scoprirete che le visure, il dato segnaletico può essere aggiornato anche real time, per esempio quando intervengono delle rettifiche, vengono cancellati degli errori, oppure il soggetto segnalato viene segnalato a sofferenza o a perdita, sono degli esempi. Di questi dettagli, di queste particolarità ne parleremo durante la rubrica dedicata. Il tema comunque qual è? È quello che, come dire, di fatto all'interno della visura, peraltro in tutte le pagine, trovate anche questi particolari riferimenti. Passiamo alla slide 3 e ovviamente, finalmente, meglio dire, si parte con il racconto della prima intestazione, ok? Della posizione in capo al soggetto richiedente. L'orizzonte temporale come viene esploso? Dal mese più recente a quello più vecchio, ed ecco che in questo caso partiamo con la rappresentazione del dato di marzo 2021, mese di rilevazione. La seconda freccia, quella più in basso, ci dice poi che questo mese, marzo 2021, è stato reso pubblico, a livello informativo, in data 30 aprile del 2021, ok? Quindi sostanzialmente un mesetto dopo la chiusura del mese che viene rappresentato. Ora, il tema qual è? È quello di partire con la lettura dei vari dati. Ovviamente non posso entrare nel dettaglio di tutte le singole linee, magari ne prenderò una ad esempio, ma in questa specifica slide mi piace evidenziarvi che cosa? Beh, che associato a questo nome piuttosto astruso, che probabilmente non dice, a me non dice nulla personalmente e non diceva nulla nemmeno a questo mio cliente, viene associato alla dicitura che è un servicer, ok? Quindi è un veicolo, è una persona giuridica, un veicolo creato per gestire determinati crediti che fanno comunque capo ad un'altra entità, ad una banca, ad una finanziaria che fa capo, che poi alla fine molto spesso titolare dello stesso finanziamento. Dei servicer ne parleremo proprio in fondo, perché quello che dovete sapere, che cos'è? È che in fondo alla visura, ok, ci sarà tutta la lista di servicer presenti all'interno del documento e ad ogni servicer viene associato, diciamo, la banca di riferimento. Quindi questo il controllo lo faremo alla fine. Passiamo alla slide successiva e faccio un esempio, subito da notare e da evidenziare, qual è? Beh, che quando io chiedo la mia visura, non è che trovo solo le posizioni di me stesso o quelle dei cointestatari, ma per esempio trovo anche i nominativi di chi mi fa da garante. In questo caso si tratta del fondo di garanzia, lo Stato sostanzialmente, che presidia alcuni miei finanziamenti rilasciando una fideillusione, ok? Però la cosa importante da sapere è proprio questo tipo di informativa, ok? Che viene proprio evidenziata in una sottosezione a parte. La banca cremonese è garantita da questo soggetto. Slide successiva ancora e mi piace raccontarvi di quanto la centrale rischio e la vostra visura possa essere ricca di dati e di informazioni. Nella fattispecie, nella sezione informativa della banca di credito cooperativo agrobresciano, che cosa notiamo? Beh, notiamo che l'istituto di credito dice, comunica, di far parte di un pool di banche che finanzia quel soggetto, ok? Quindi vedete come le informazioni che si possono ricavare possono essere anche piuttosto articolate, ok? E mi possono anche aiutare ad associare un finanziamento come di fatto erogato da, supportato da una molteplicità di soggetti di banche. Slide di nuovo successiva e qui, ecco, mi piace evidenziarvi che cosa. Per esempio, stiamo parlando di BNL, ecco che la banca presenta un'articolata varietà di esposizioni verso quel cliente. Nella fattispecie si parla di due macro tipologie di esposizione, dapprima i crediti per cassa e nella fattispecie sono erogati nella forma di rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, ma poi presenta anche dei derivati finanziari, ok? Notatelo, quindi se avete esposizione in derivati, ecco che potrebbero trovare rappresentazione nella vostra centrale rischi. Nella sezione informativa BNL in questo caso cosa segnala poi? Beh, segnala un finanziamento che lei gestisce, ne cura gli incassi sostanzialmente, ma che in effetti fa capo ad un terzo soggetto, cioè se il cliente dovesse non pagare non è certo BNL che si troverà in difficoltà, ma sarà appunto il terzo che ha erogato il finanziamento. In questa successiva slide vediamo che sempre nella sezione informativa le banche possono riportare che cosa? Beh, possono riportare informazioni relative alla qualità degli effetti, delle fatture di solito, che vengono utilizzate per alimentare il castelletto, le linee autoliquidanti. Ebbene nel caso di specie vedete come esistano associate a questa banca dei crediti scaduti, quindi delle fatture che non sono proprio regolari, ecco, nel loro processo di pagamento. Nella fattispecie, non siamo stati fortunati, entrambe queste due macro categorie di fatture, una che fa capo al nord ovest Italia e l'altra al sud, ok, sono entrambe sì scadute ma pagate nel corso del mese segnalato in questione, si tratta di marzo del 2021, quindi sono sì delle negatività ma chiaramente di livello piuttosto trascurabile. Se avessimo trovato l'informativa crediti impagati ecco che avrebbero potuto rappresentare un rischio maggiore. Attenzione quindi che di fatto nella mia centrale rischi posso anche ricavare macro informazioni sulla qualità complessiva del mio portafoglio effetti che utilizzo per avere anticipazione. La slide successiva la posso tranquillamente saltare, a me serve semplicemente per farvi vedere come si evolve il racconto, passo alla slide 9 ed ecco che anche qui trovo un'informazione in più rispetto a tutte quelle che abbiamo visto. Un'informazione su chi? Sui debitori ceduti, cioè nella mia centrale rischi io riesco anche a risalire ai miei debitori, ai miei clienti, ok, verso i quali evidentemente vanto un credito e che io ho preferito cedere, fattorizzare ad una banca. In questo caso Eurofactor dice che ha ricevuto da me azienda, ok, dei crediti, in questo caso del valore nominale di 819.000 euro e 113.000 euro con i quali è stata aperta un'operazione di fattorizzazione, in questo caso attiva se si considera il soggetto segnalato. Io azienda ho un credito e fattorizzo attivamente questo credito e ricevo in cambio appunto del denaro, ok, un'anticipazione, chiamiamola così, un'anticipazione. Poi dipende se è prosoluto o prosolvendo, ma questo è un aspetto che non approfondiremo in questa serie. La slide successiva poi che cosa ci dice? Beh, che parimenti anche quando sono io ad essere fattorizzato, ad essere ceduto da mio fornitore, io non ho ancora pagato le fatture, il fornitore ha bisogno dei soldi comunque, e sceglie di ottenere un'anticipazione nella forma di per esempio un factoring. Ecco che nella mia centrale rischi io sarò segnalato come quel soggetto debitore, il cui debito è stato ceduto dalla Pinco Pallino SRL ad un factor. La cosa da notare in questo contesto, qual è però? È che in centrale rischi viene mappato anche potenzialmente la mia capacità di rispettare i pagamenti non solo verso le banche, ma anche verso i miei fornitori, ok? Ve lo faccio notare, guardate qua alla voce stato del rapporto, vedete ci sono due diciture, crediti scaduti, crediti non scaduti, cioè il factor sta dicendo che almeno nel caso delle fatture da 1.452.000 euro, ok, io sono in ritardo di pagamento. Quindi attenzione, le operazioni di factoring devono essere sapute presidiare correttamente, perché? Perché in centrale rischi possono avere una rappresentazione e quindi eventualmente generare un potenziale alert. Andiamo alla slide successiva e qui mi piace raccontarvi che cosa? Beh, che al di là degli enti segnalanti, l'abbiamo visto prima, il service che si chiama con un nome astruso, piuttosto che la banca 1, la banca 2, ecco che delle volte vediamo come alla fine uno stesso istituto, unicredit nell'esempio, possa segnalare le proprie esposizioni, in maniera corretta evidentemente, splittandole, splittandole per l'effettivo ente giuridico che le sta segnalando e derogando. In questo caso unicredit factoring è diverso da unicredit leasing e questi due soggetti sono diversi da unicredit spa, la banca commerciale, lo sportello bancario, ma tutte e tre fanno capo al gruppo unicredit. E tutte queste informazioni, quelle soprattutto esclusive, di unicredit factoring, di unicredit leasing, di unicredit spa, sono messe di fatto sostanzialmente a fattor comune. Quindi quando una negatività si concentra su una banca che appartiene ad un gruppo, sappiatelo, ok? Quell'informazione viene condivisa all'interno del gruppo bancario, ok? Non è che un una banca ignora le esperienze che un altro istituto appartenente allo stesso gruppo ha, ok? Attenzione a questo. Passo alla slide successiva e vi faccio vedere che cosa? Beh, che marzo del 2021 abbiamo finito di raccontarlo e Banca d'Italia passa al mese successivo, a quello un mese più vecchio, ok? Scusate il gioco di parole, febbraio del 2021, ok? E questo discorso ovviamente si replicherà all'interno di tutta la visura, marzo, gennaio, poi l'anno prima, eccetera, eccetera. Con questa slide che parla di maggio del 2020 poi faccio un salto temporale e a me serve solo per farvi vedere un esempio di rettifica, ok? Nelle visure Banca d'Italia quando una banca sbaglia e poi corregge viene lasciata traccia, traccia non solo dell'errore ma anche del momento in cui la banca ha corretto e del momento e del periodo in cui l'informazione errata è circolata. Nella fattispecie ve la traduco così se di chi dovesse capitare un caso sarete in grado di comprendere che cosa vuol dire questo passaggio, ok? All'interno dell'informativa Informazioni sui Garanti questo istituto di credito da dal 7 luglio del 2020 fino all'8 luglio del 2020, quindi per sostanzialmente due giorni, ha comunicato che quelle esposizioni erano garantite dal fondo di garanzia. Ma questo era un errore, ok? Tanto è vero che il 9 di luglio, ok, rettifica il dato e che cosa ci dice? Beh, ci dice che in realtà non ci dovevano essere segnalazioni sui Garanti, di Garanti non ce ne sono, quindi l'errore viene rimosso. Ora questo è un caso abbastanza, come dire, eccezionale. Se andiamo a vedere la slide successiva, ecco che andiamo ad affrontare quello che non è poi così raro osservare all'interno delle visure. In questo caso è banca intesa, banca intesa dal 3 giugno fino al 24 luglio, quindi per quasi due mesi, segnala che cosa? Su un rischio a scadenza, ok, quindi su un credito per cassa segnala utilizzi maggiori degli accordati operativi, quindi sostanzialmente uno sconfino, ok? Uno sconfino che però la banca si accorge essere errato, quindi in maniera del tutto corretta va a rettificare questo errore. Ed ecco che riporta, nella sezione, nella riga sopra, riporta un livello di utilizzo che è pari a quello di accordato e quindi implicitamente ci sta dicendo che quello sconfino segnalato per circa due mesi, relativamente al mese di rilevazione di aprile 2020, era sbagliato e oggi non c'è più, ok? Ovviamente vi faccio un esempio, se oggi, oggi siamo nel 2000, giugno 2022, una banca dovesse consultare per la prima volta la mia centrale rischi, perché non è che vede gli errori, le correzioni eccetera, no, vede semplicemente il dato corretto, quindi attenzione a questo dettaglio, ok? Però noi dobbiamo sapere anche un'altra cosa, che chiunque avesse consultato la mia centrale rischi nel periodo giugno luglio del 2020, questo errore vedeva e non il dato corretto. Ci siamo? Andiamo alla slide successiva e questa mi serve solo a farvi vedere come dentro la centrale rischi possiate trovare anche per esempio i confidi, ok? Cosa fanno i confidi nel 99% dei casi? Segnalano il rilascio di garanzie che tecnicamente sono chiamate crediti di firma di natura finanziaria. Ovviamente non si tratta di un'esposizione, ok? Sì, voi effettivamente, pardon, il confidi ha effettivamente un'esposizione nei vostri confronti, ma è un'esposizione che è sostanzialmente una garanzia a presidio di un finanziamento erogato da una banca che verosimilmente già vi sta segnalando, quindi in qualche modo è distorsiva. Questo per dirvi che cosa? Che il dato del numero di enti segnalanti non ci dice assolutamente quante sono le banche che ci affidano e tantomeno i gruppi bancari che ci affidano. Andiamo avanti. Ora finalmente ovviamente io mi sono evitato di farvi vedere 400 slide del tutto inutili e passo direttamente alla pagina 760 della visura e vi faccio vedere come Banca d'Italia inizi ex novo a parlare di marzo del 2021 ma dalla prospettiva della cointestazione, ok? Quindi in questo caso ecco che è una segnalazione da parte di un solo unico istituto che sta raccontando che cosa? Che sta lui istituto ricevendo delle garanzie nell'interesse di questo soggetto associazione Pincopallino. Cosa vuol dire? Vuol dire che i due cointestatari, ok, fanno da garanti all'associazione, ok, a presidio di una di un finanziamento presso la banca cremonese, ok? È piuttosto semplice ma questo mi serve per dirvi che cosa? Beh abbiamo visto più o meno quali possono essere i soggetti collegati e che posso trovare all'interno della mia visura. Li ricapitolo. I cointestatari, ok, ma anche i soggetti che mi fanno da garanti, ok, o a cui io faccio da garante, ma anche per esempio i miei debitori che cedo o i creditori che mi cedono. Quindi attenzione, tutti questi soggetti in un modo o nell'altro vanno a comporre quel concetto che si chiama gruppo di rischio, ok? Ne abbiamo parlato all'interno della rubrica dell'ABC, se non sapete minimamente di cosa sto parlando andatevi a vedere quel video perché è davvero importante e vi dà contezza di quello che è il perimetro di analisi che di solito le banche utilizzano quando vanno ad analizzare e a valutare un soggetto singolo, non si fermano a lui, guardano chi c'è, chi c'è intorno a lui, ok? Benissimo, andiamo avanti e in fondo, in fondo alla visura, una volta che si è parlato di tutti i mesi relativa anche alle eventuali cointestazioni, ecco che Banca d'Italia ormai è un annetto che lo fa, ci riporta anche l'utile dato relativo alle richieste di prima informazioni. Che cosa sono le richieste di prima informazione? Sono tutte quelle richieste della mia centrale rischi avanzate da istituti che ancora non mi affidavano e che evidentemente volevano farlo, ok? Per un dettaglio, per tutte le specifiche specifiche abbiamo creato all'interno della rubrica centrale rischi un video ad hoc, guardatevelo, è molto interessante, anche perché scoprirete che in realtà è possibile ottenere una richiesta di prima informazione molto più ricca, estesa a tutto l'orizzonte temporale che volete, ma anche con informazioni aggiuntive rispetto a queste che sono evidentemente, come dire, molto molto sintetiche, non mi dicono gli importi, non mi dicono il perché l'hanno chiesta eccetera eccetera, mi dicono solo le date e chi l'ha fatto banalmente. Però al di là di questo dettaglio era, come dire, doveroso dirvi che all'interno della misura troverete anche questa informazione. Passo alla slide successiva ed ecco che finalmente vediamo la lista dei servicer. Ovviamente questi sono i servicer che sono ricompresi, sono stati riportati all'interno di tutte le 700 pagine della visura centrale rischi che abbiamo analizzato. Se vogliamo parlare del servicer che avevamo, in cui ci eravamo imbattuti, ecco che a questo nome astruso finalmente associamo FCA Bank, cioè banalmente la finanziaria del gruppo Fiat, del gruppo Stellantis. Probabilmente al cliente in questione, al soggetto segnalato in questione, se si parla della finanziaria della Fiat è un discorso, se si parla di questo Asset Backed European Securitization Transaction 18, SRL ovviamente un minimo di smarrimento gli sarà sicuramente arrivato, ecco diciamo così. Passiamo poi alla parte finale delle visure e cosa vi devo dire? Beh vi devo dire che in fondo a qualsiasi vostra visura troverete sempre una leggenda che vi aiuterà almeno un minimo a capire il significato di alcune rappresentazioni, di alcune parole, ok? Sono autoesplicativi, io non ve le sto a leggere, l'unica cosa che mi piace evidenziare è che Banca d'Italia secondo me è stata molto brava perché ha generato una leggenda dinamica personalizzata, quindi tutte le diciture che troverete nella leggenda fanno riferimento a casi che concretamente troverete dentro i vari passaggi segnaletici mese per mese. Non vi sta a spiegare un qualcosa che non c'è all'interno della vostra visura. Faccio un esempio, le sofferenze. Questa azienda di sofferenze non ne ha e quindi Banca d'Italia è inutile che mi stia a spiegare che cosa significano, ok? Ed ecco che appunto nella fattispecie troviamo tutto ciò che all'interno della visura questa azienda può ritrovarsi in termini di segnalazione. Ovviamente la leggenda è organizzata per categorie di rischio, ok? Ma anche variabili di classificazione piuttosto che classi di Stato eccetera eccetera. In ultimo Banca d'Italia si è anche sforzata di creare una guida alla lettura delle informazioni della centrale rischi. Quello che vi posso dire è che è necessariamente non esaustiva, ok? Passatemi l'espressione una leggenda, una guida per Dummies e che inevitabilmente serve a supportare proprio chi non ne sa nulla, 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 nulla. Detto ciò fornisce anche un numero verde. Io non mi dilungo a farvi vedere tutte le slide relative alla guida può essere in qualche modo utile ma di certo se seguirete la nostra rubrica sulla centrale rischi scoprirete cose che ovviamente Banca d'Italia non vi racconta e soprattutto imparerete al di là di leggere la vostra centrale rischi anche di come si possa correttamente comprendere il dato e capire come si è effettivamente visti dal sistema bancario che consulta appunto il dato segnaletico. È tutto, vi ringrazio, se vi è piaciuto questo video, questo contributo mettete un bel like così ci aiutate e grazie, grazie dell'attenzione e a presto! Grazie a tutti!